vitalizi veramente è un cane che si muore dalla coda mo stanno facendo i ricorsi vanno in appello si riprenderanno i loro vitalizi io vi dico nel 2018 ho votato Movimento 5 Stelle perchè sembrava che fosse diverso dagli altri poi come avete visto e lo sanno tutti nel governo Draghi si sono messi tutti assieme quindi adesso settembre 2022 sapete tutti che ci sono tra un po' le elezioni io veramente vi dico non so chi votare cioè proprio sono tutti uguali per questo io insisto nel dire che al governo cioè bisogna fare un cambiamento drastico e come ho detto prima in un altro video bisogna che molte persone sicuramente ci sono sicuro persone molto più colte intelligenti di me che possono portare idee buone è possibile anche tagliare gli stipendi i vitalizi ce ne sono cose di molti moltissime che si possono fare però finché siamo alla finestra a guardare qua non cambierà niente non cambierà non cambierà non cambierà non cambierà